E tu lì in fondo, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vuoi unirti al mio fantastico, meraviglioso regno? Sì, sarebbe fantastico, ma il regno dov'è? Sinceramente io non vedo nessun regno qua, quindi... Mi scusi, ma è ceca, guardi che bellissimo standardo, questo qua è lo standardo di un regno Te lo devo spiegare io, non basta questo per costruire un regno, no, assolutamente no Tante altre cose, ci vogliono dei sudditi, ci vogliono delle coltivazioni, ci vuole un castello, io qui non vedo nessun castello, mi scusi, eh Aspetti, quello lo posso sistemare subito, guardi che bello Uno, due, tre, ci sto sopra La smetta, dai, la smetta, ho deciso che l'aiuterò dato che io sono molto molto esperta nella costruzione di regni Quindi le darò una mano, sì, assolutamente sì Ma che gentile, e cosa vuole in cambio? Che lei sia il mio schiavo, totalmente E ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki E io sono Stef, che sono G-Coloni Survival E siamo qui in questo nuovissimo gioco Però, a differenza di altri giochi dove i sudditi sono lì ma stanno fermi e non fanno nulla Qui lavoreranno per noi Quindi adesso vi facciamo vedere subito Iniziamo il nostro regno dove Fieri Niki è la regina Io sono lo schiavo di Fieri Niki ma io avrò i miei schiavi Che lavorano per me È tutta una catena di schiavi Esattamente, creiamo il primo poveretto Per farlo abbiamo bisogno di un letto Perché ovviamente deve dormire da qualche parte il nostro colone Quindi vediamo un pochettino, come li chiamiamo? Abitanti, coloni, schiavi, laboratori Abbiamo già detto Fieri, non mi piace chiamarli schiavi Una cosa un po' più carina Schiavetti Ma siamo seri? Ci escono anche le cose in contemporanea Schiavetti dai, è carino Schiavetti sia È carino perché è pur sempre uno schiavo Però non stai dicendo che è uno schiavo Così, col nome brutto Va bene Dove vorresti il letto? Guarda se ti piace qua È un po' troppo avanti Perfetto, va benissimo Allora, quindi questo è il letto del nostro primo schiavetto Mi stai già deludendo qua, eh Con 50 di cibo noi possiamo creare E consumerà 5 di cibo ogni giorno Quindi bisogna anche sommarlo Quindi, guardatelo qua Eccolo qui Ciao, schiavo numero uno Sei pronto a lavorare? E voi vi chiederete Ma dov'è che deve lavorare? Perché al momento non abbiamo nulla Non è un problema Perché adesso creiamo anche il suo lavoro Mi sembra giusto Ferre, non parlare al plurale Quando fai fare tutto a me No, ma allora Io qua ho un ruolo importantissimo Sì? Ovvero di fare la guardia Perché i consulini ancora non sanno Che di notte verremo attaccati Hai detto bene di notte Quindi di giorno puoi lavorare insieme a me No Creiamo un posto dove il nostro schiavetto potrà lavorare Cosa c'è di meglio di un campo di grano? Nulla Quindi guardate un pochettino cosa fa appena noi lo mettiamo Inizia a seminare il grano Esatto Che ci metterà due giorni per crescere Quindi tra due giorni ci darà del cibo Che ci permetterà di creare altri schiavetti Di espanderci e di creare tante altre cose Ed è troppo bellino vederlo lavorare Allora Ferre, voglio chiederti una cosa Abbiamo fatto il primo schiavetto Abbiamo fatto la prima coltivazione Cosa vuoi fare adesso? Perché il giorno dura un po' di tempo Ma durante la notte arriveranno tante persone cattive Quindi qual è il tuo piano? Allora, secondo me dobbiamo aumentare la produzione Ok, quindi più grani? Sì, sì, al momento è un po' scarsa Fargli anche staccati i campi che sono bellini Di uno o di due li vuoi staccati? Di uno, di uno va bene Quindi lo vorresti così riesci a contarmi da quanti blocchi è? Da quattro, giusto? Chiavetto numero due è andato subito a lavorare il grano Ferre, che è successo? Ho fatto un buco in terra Ferre Ok, no, l'ho tappato, è tutto a posto Tranquilla, tranquilla Ho capito perché non mi aiuti a lavorare Perché non sei in grado E tu sapevi che si possono fare i bucchi in terra? Non lo sapevi Certo Non è vero, non lo sapevi Guarda, ti faccio vedere un trucchetto Dato che dici che non lo sapevo Ok, resta lì, eh, resta lì Comunque sta per diventare notte Quindi dobbiamo stare attenti Sì, sì, io sono già pronta con il mio arco Allora, se io faccio così Guarda Guarda, questo lo puoi usare come poltrona per sederti Dato che tu non hai un letto Ok Te lo piazzo qui Io non dormo mai Guarda Ma non è una poltrona, sono delle foglie Comode per sedersi e per rilassarsi Guarda Sto comodissimo, bellissimo Meno male che ti piace Comunque sì, possiamo prendere qualsiasi blocco E posizionarlo proprio come su Minecraft Quindi è carinissimo Ma Ferre non l'ha apprezzato molto Sta diventando notte Una cosa importante Sì, sì, sì È difendere i nostri schiavetti Per farlo creiamo dei schiavetti guardia Mi sembra giusto Armati di arco e di frecce Quindi iniziamo a farlo Dobbiamo prima di tutto creare le frecce Che saranno Anche se non ce n'è bisogno qui Perché Ferre? Perché ci sono io Ah, ci vuoi difendere tu? Sì La notte quindi diventi utile all'improvviso? Sì, esatto, esatto Almeno io voglio solo combattere, capito? Ok Io quindi voglio governare e combattere Che sono le uniche due cose che mi piacciono Allora, facciamo così Ok Creo un solo schiavetto che difende così i consolini Lo vedono Esatto E per il resto ci pensi tu Lavorate, muovetevi Che abbiamo bisogno di cibo Vedi, siamo migliori amici adesso Possono anche lavorare quanto vogliono Ma il grano ci mette due giorni a crescere, poverini Perché sono lenti È colpa loro Se fossero più veloci il grano crescerebbe più veloce Ok Creatto schiavetto 3 che diventa schiavetto guardia Guarda come sta andando già dritto È pronto al suo lavoro, al suo destino E adesso praticamente lui va qua Si prende le frecce all'arco E resta fermo Quando compaiono gli zombie Li spara e li ameazza Difendendo tutti gli altri schiavetti Che stanno qua tranquilli a dormire E purtroppo all'aria aperta Beh loro lavorano di giorno Quindi mi sembra logico Che poi di notte debbano essere difesi dalle guardie Però Fere Teoricamente abbiamo un hotel A un milione di stelle Perché un milione di stelle? Perché ci sono le stelle nel cielo Che guardano dal letto Dato che non hanno la casa Non fa ridere Questa battuta è davvero pessima La vovita su Facebook un tempo fa È davvero brutta È davvero brutta Ho provato a sfrutarla per diventare simpatico No, non ci proverei più Non ci proverei più Guarda, guarda, guarda È il primo mostro Facci vedere come la mazzi Vai fare Il primo mostro Vai fare Mi spacco la faccia, guarda Mi basta una freccia Boh Fortissima Sì, lo so, lo so Grazie Ma sei bravissima Lo so Però io vorrei vedere lo schiavetto Guardiamo se ne uno Eh, bisogna vedere se arrivano da quella direzione No, mi sa che l'ho messo nell'unica zona dove non ce ne sono Eh, sì, mi sa proprio di sì Ce l'abbiamo fatta Siamo sopravvissuti Ho fatto un nuovo campo Così ne abbiamo addirittura tre di grano Come vedete questo grano un pochettino è cresciuto Sì, sì, sì Dato che domani lo potranno prendere Finalmente avremo del cibo Ti volevo dire Fere Secondo me è il momento di creare qualche costruzione Perché Dici Mi sembra che siamo un po' troppo allo scoperto Quindi Ok, ok Stavo pensando Cosa ne dici di fare delle mura? Sì, ci sta Per iniziare sì Per iniziare almeno le mura Ok Almeno le mura E allora facciamo che tu fai le mura Ok E io invece creo una miniera dove i nostri schiavetti dovranno andare a minare Ok, ottimo Perché sì, c'è anche quello da fare Quindi Dobbiamo creare una strada per mandarli Una domanda Le mura da un blocco o due? Da due secondo me Da due, è vero? Perché secondo me un blocco i mostri lo scavalcano Sì Fallo bello Largo No, certo, certo Anche se non ho così tanti blocchi Eh, quindi La miniera dove la vorresti invece? Eh, boh Guarda, da queste parti Vieni, vieni, vieni Tipo qua ti piace dove sono io adesso? Eh, esatto Questa zona qui magari inizi a scavare E sicuramente troveremo qualcosa Ok Sotto terra Quindi inizia, inizia Allora faccio qua, faccio qua Fere, ma dove stai finendo? Stavando Un po' troppo Allora Fere sta facendo un sacco di pietra Per continuare le mura Che adesso vi faccio vedere Le abbiamo iniziate a fare alte due Perché così secondo me i mob non riescono a passare Sì, se non ricordo male nella guida del gioco Ti dicono proprio che Non possono saltare due blocchi Invece uno lo saltano Esattamente Le stiamo mettendo da questo lato E stavo pensando che Metto delle guardie Nei due punti dove non facciamo le mura Eh, eh sì Secondo me è un ottimo piano In questo modo diciamo Abbiamo coperto con delle guardie Le zone più vulnerabili Invece dall'altra parte abbiamo le mura Che teoricamente ci difendono Dico teoricamente perché ancora non mi fido molto Devo creare anche delle ceste Dove i nostri schiavetti Metteranno il grano Perché quando lo diciamo Come si dice quando lo prendono Fere? Quando lo raccolgono Quando lo raccolgono Grazie dove veniva Lo dovranno mettere a qualche parte Quindi in questo caso Dentro quelle ceste Sì, no, sono davvero efficienti Perché fanno tutto in automatico Cioè prendono il grano Te lo mettono nella cassa E tu poi ce l'hai lì tutto pronto Quindi è bellissimo Esattamente Quindi adesso Una ceste per ognuno di loro In modo tale che metteranno Tutto il granetto qua E aspettiamo di vedere Fino a dove arrivano Le mura di fuere Però direi che stanno andando Già benissimo Inizia già Ho finito così Ad essere quasi un regno Dovremmo avere anche delle torce Vero? Hai ragione Perché direi che è il caso Di iniziare a illuminare Il nostro regno Sì, sì Però allì fuori delle mura O nelle mura? A me piace nelle mura Vediamo Perché così abbiamo la luce Oh, guarda Cosa hai fatto? Vieni a vedere Bellissimo Le puoi mettere nelle mura Che bello Allora, ogni quanti blocchi? Ne ho messo una vicino ai letti Per avere luce nostra Ok E mi sa che ne metto anche un'altra Qua vicino ai campi Che costruzano Rimando molto buia Secondo me è qui, Fede In mezzo al grano così Ah, sì È carino, no? Vai Questa te la rubo Perfetto Anzi, non mi piaceva una Anche qui, hai ragione Sì, sì, sì Te l'ho detto E allora una anche da quest'altra parte Che c'è l'oscurità Che non mi piace Così Ok, ok Ci sta Dai, come inizio ci sta Io ne ho anche un'altra Quindi direi che ce la mettiamo qua Guarda Sì, dove ci sono gli alberi Che c'è un sacco di buio Bravissima Ci siamo subito capiti I campi però, mamma mia Troppo illuminati Con tutte queste torce No, dai Fa un bellissimo effetto Ok, dai Te le lascio Mette allegria La luce Più meno Allora, adesso dobbiamo vedere Se appunto i mostri Non passano sulle mura Perché altrimenti Dobbiamo stare belli attenti A difendere Perché magari facciamo Ah, ok Tutto a posto E poi bam Ci amazzano i nostri schiavettini No, no, assolutamente no Perché l'hai tolta da lì? Perché non mi piaceva in questa posizione Preferisco averla tipo qua Va bene Vediamo adesso cosa fa Attacca il blocco E quindi lo può distruggere Si blocca qui Fa il giro Fa il giro Quindi comunque Non lo può superare Su questo abbiamo fatto giusto Yes E quindi se riusciamo a essere circondati Loro non possono più entrare Perè lo puoi ammazzare Io non ho più l'arco Infatti aspettate che me ne creo uno Va che Per il grande giorno Il grano è teoricamente pronto Sì, 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 vediamo Vediamo, vediamo Quindi dovremmo vederli raccoglierlo E metterlo dentro le ceste Lo stanno facendo? Eh, credo proprio di sì Sì, lo stanno togliendo E ripiantando Quindi Ok, ok Ci stanno dando del cibo Che ci permetterà di creare Nuovi schiavetti E nel mentre lo ripiantano subito In una maniera super mega efficiente Oh, sono bravissimi Questo c'è da dirlo Sono degli schiavetti provetti Bravissimi, bravissimi Allora, noi invece possiamo provare A fare Oh Cosa? Oh Cosa? Cosa possiamo provare a fare? Questo, Fede Cos'è? Allora, teoricamente Questo è difficile Ok Noi abbiamo 20 di grano Però lo dobbiamo trasformare in qualcos'altro Allora Nel pane Quindi dobbiamo aspettare che finisca lui Quindi la prossima giornata Ma soprattutto dobbiamo subito continuare ad investire nel grano Perché se no Sì, no Serve un sacco di cibo per tutto Quindi Sì, sì, sì Dobbiamo assolutamente aumentare Mi sono reso conto che praticamente noi produciamo 60 di cibo in due giorni e ne consumiamo 50 Quindi abbiamo un grossissimo problema Cioè facciamo 10 di cibo ogni due giornate Cosa ha detto Ferinichi fin dall'inizio? Licenziamo le guardie Licenziamole Non servono a nulla al momento Allora Se io tolgo questo Lui teoricamente smette di essere una guardia E automaticamente va a lavorare nei campi Esatto E per ora facciamo una bella Produzione Il campo è qua Fere Fere è impazzito Ah, sta andando a lavorare il pane? Bravo No Ok Aspetta Cerchiamo di capire cosa vuole fare nella sua testa Fere Scusa, che vuoi fare? Ha una freccetta, è contento Non puoi stare qui Sto facendo qualcosa Vedi che c'è una barretta che avanza? Ok Credo che lui stia prendendo il grano dalle ceste Per poi fare il pane Non lo so Bene, che se li esce Aspetta la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli Da di iscrivervi Per non perdervi gli altri fisoni Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao